Il mese di ottobre è iniziato con sole e caldo protagonisti in Emilia Romagna. La nuova settimana, la giornata di lunedì 2 ottobre, vedrà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la nostra regione. Questa potente alta pressione raggiungerà proprio l'apice della sua grandezza tra lunedì e martedì, determinando caldo fuori stagione. La giornata di lunedì vedrà cieli azzurri da mattina sera sia in Emilia che in Romagna, solamente qualche nuvoletta sul nostro crinale, quindi sulle vette più alte del nostro appennino. Ma le temperature saranno molto molto alte, ad esclusione del risveglio che avremo valori spesso freschi, specialmente nelle aree di campagna, qui compresi tra 10 e 12 gradi, mentre in città avremo valori tra 14 e 18 gradi, di giorno farà davvero caldo perché le temperature massime raggiungeranno i 26-27 gradi fin sulla fascia costiera, ma picchi di 29-30 gradi non saranno da escludere sulle pianure centrali. E andrà addirittura peggio nella giornata di martedì 3 ottobre, quando le temperature massime potrebbero raggiungere localmente i 30-31 gradi nelle pianure centrali, con sempre un tempo stabile e soleggiato. La giornata di mercoledì invece vedrà un leggero aumento della nuvolosità, con un leggero calo delle temperature massime di 1-2 gradi, calo che avvertiremo specialmente tra giovedì e sabato, ma ne riparleremo nel prossimo appuntamento. Per oggi è tutto, buon proseguimento da Andrea Raggini. Grazie per la visione!